Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Tutti noi abbiamo sentito parlare, almeno una volta nella vita, dei celebri crop circle, i cerchi nel grano. Si tratta di figure geometriche complesse e affascinanti che sono apparse nei campi di grano o di mais in diverse parti del mondo. Alcuni hanno ipotizzato che siano gli alieni a disegnare i cerchi nel grano per ragioni che noi esseri umani fatichiamo a comprendere. Il film Science, pellicola del 2002 con protagonisti Mel Gibson e Joaquin Phoenix, prende proprio spunto dai cerchi nel grano per raccontare una storia alquanto bizzarra su un'invasione aliena. In questo video analizzerò gli aspetti più interessanti di Science, inclusa un'affascinante teoria in merito alla vera natura degli invasori spaziali. Il film si svolge in una cittadina rurale della Pennsylvania, dove l'ex pastore Graham Hess vive insieme ai figli e al fratello Merrill. Graham ha perso la fede in Dio in seguito al decesso della moglie in un incidente stradale. Questo elemento della perdita della fede ci tornerà utile quando analizzeremo la teoria. Una notte i cani degli Hess cominciano ad abbagliare come ossessi, visibilmente agitati e spaventati. Graham e Merrill escono a controllare e scoprono un grande cerchio nel grano proprio nei loro campi. Subito pensano che si tratti di uno scherzo o di qualche burlone locale. La notte successiva Graham ha vista una sagoma attorno ai campi. Insieme a Merrill decidono di lanciarsi all'inseguimento del presunto bullo, ma restano stupiti dal fatto che non solo riesce a scappare, ma sembra addirittura che sia saltato sul tetto della casa, alto più di 3 metri dal suolo. In realtà questo è il primo incontro con un alieno. Gli alieni di Science, infatti, sono fisicamente piuttosto agili e veloci. Alte oltre 2 metri, queste creature hanno un aspetto umanoide e si muovono su due esili ma forti gambe. Posseggono due occhi piuttosto grandi, non hanno orecchie e posseggono dei denti simili a quelli umani. Le loro mani hanno degli artigli alla fine delle dita. La pelle degli alieni può cambiare colore a piacimento, forse per garantire un maggiore mimetismo. La principale arma d'offesa di questi invasori è una sorta di pungiglione che esce dal polso, capace di emettere un gas velenoso per l'essere umano. Gli invasori non indossano armature o corazze protettive, né impugnano armi tecnologiche. Scendono sulla terra diciamo nudi, tra virgolette. Il loro corpo è abbastanza resistente ai traumi, ma non è invulnerabile. Graham taglia le dita di un alieno con un semplice coltello da cucina. Ma la loro vera debolezza è l'acqua. L'acqua è infatti in grado di lesionare gravemente la loro pelle e i loro organi, risultando corrosiva nonché letale per loro. Graham e Merrill denunciano l'accaduto, pur non potendo identificare il misterioso burlone. Ben presto però diviene chiaro che i cerchi nel grano stanno comparendo in tutto il mondo, partendo dall'India. La velocità e la frequenza con cui compaiono un po' ovunque comincia a far vacillare l'ipotesi che siano stati realizzati dagli esseri umani. Le persone avanzano alcune teorie in merito. La più gettonata afferma che i cerchi nel grano siano dei segnali per navi aliene. La famiglia Hess cerca di mantenere la calma, ma usando un vecchio baby monitor, captano involontariamente delle voci che non hanno nulla di umano. I segni dell'invasione divengono sempre più palesi in tutto il mondo. Una notte, presso Città del Messico, vediamo una flotta di UFO stazionare nel cielo, emettendo una luce arancione. Di giorno gli UFO sembrano addirittura diventare invisibili all'occhio umano. Le navicelle appaiono nei pressi dei cerchi nel grano. Ciò induce gli Hess a valutare l'idea di andar via dalla fattoria per recarsi in un lago poco distante. Anche perché pare che gli alieni stiano sempre lontani dalle fonti d'acqua. Del resto è la loro più grande debolezza. Alla fine gli invasori cominciano ad essere avvistati in tutto il mondo. Merrill, guardandolo a tv, vede un filmato girato in Brasile in cui un alieno esce placidamente da una siepe. Graham ne vede uno intrappolato nello sgabuzzino di Ray, l'uomo che investì la moglie. Rory, il figlio maggiore di Graham, seguendo quanto scritto in un libro di ufologia, consiglia alla famiglia di chiudersi in casa, in quanto gli alieni sono probabilmente ostili e pronti ad attaccare. Qui sorgono due domande. Quali sono gli scopi dell'invasione e quanto sono evoluti gli alieni? Nel film non viene mai spiegato ufficialmente quali siano appunto gli obiettivi degli invasori. Secondo alcuni sono qui per le risorse, secondo altri per mietere il genere umano, ma niente di chiaro. Riguardo alla loro tecnologia, questi alieni sono in grado di creare navi interstellari capaci di viaggiare attraverso il cosmo. Quindi possiamo affermare che sono alquanto evoluti. D'altro canto, come già detto in precedenza, una volta a Terra non usano nessun congegno, strumento o dispositivo tecnologico. La cosa è alquanto strana, non c'è che dire. Anche l'invasione in sé per sé è alquanto bizzarra. Perché hanno deciso di attaccare un pianeta letteralmente pieno zeppo di acqua? Per non parlare del fatto che persino noi esseri umani siamo basati su tale elemento, tecnicamente sputare in faccia un alieno potrebbe ucciderlo. Davvero una razza così evoluta da creare navi spaziali non ha esaminato la Terra prima di attaccare? È come se la razza umana invadesse, in mutande, un pianeta stracolmo di acido muriatico ovunque. Ad ogni modo, proprio grazie all'acqua, la famiglia Graham riesce ad uccidere un alieno entrato nella loro casa, e più in generale la razza umana riesce a respingere l'invasione senza troppe difficoltà. Bastava una pistola ad acqua, alla fin fine. La Terra è quindi salva? Nell'immediato sì, ma il libro citato da Rory afferma che gli alieni potrebbero tornare un giorno, magari con più truppe, per completare l'opera. Il film si conclude con una sequenza di Graham che ritrova la sua fede in Dio, tornando ad essere un pastore. In generale, il film è costruito proprio attorno al tema della fede, del piano di Dio e della fiducia in un disegno più grande di noi. Questo importante elemento religioso ha fatto sorgere una teoria. E se gli alieni non fossero tali, e fossero in realtà dei demoni? Alcuni hanno fatto notare che il cerchio nel grano vicino alla fattoria Hess ha la forma di un forcone, simbolo spesso collegato al diavolo. Il fatto che essi siano vulnerabili all'acqua dipenderebbe dal fatto che sono appunto creature infernali e quindi in un certo senso legate al fuoco. Se appunto accettiamo l'ipotesi che gli alieni siano in realtà dei demoni, potremmo avere anche una spiegazione in merito al perché abbiano invaso la Terra pur essendo piena zeppa di acqua. Non si tratterebbe appunto di una campagna spaziale, bensì di qualcosa di più metafisico e quindi più inspiegabile? Inoltre il loro aspetto umanoide e slanciato ricorda alcune rappresentazioni artistiche di demoni realizzate durante il Medioevo. Secondo alcuni il fatto che gli invasori uccidano attraverso un gas è una sorta di ribaltamento del soffio della vita che Dio infuse in Adamo secondo la mitologia ebraica. Anche il libro sugli UFO del Giovane Rori potrebbe essere diciamo sospetto. Il volume sembra quasi profetico per certi versi. Inoltre contiene l'illustrazione di un UFO che dà fuoco a una casa che è la copia perfetta della fattoria degli Hess. L'immagine ha un che di infernale con tanto di fiamme e corpi bruciati. È chiaro che tutti i protagonisti del film, e in particolare Graham, sono tormentati dai loro demoni interiori, legati alla morte, alla perdita della fede e al senso di smarrimento che porta alla rabbia. Pertanto è possibile che il regista abbia voluto dare una rappresentazione fisica dei demoni, scambiati appunto per alieni grazie ai filtri culturali dell'uomo contemporaneo. Se un tempo i fenomeni paranormali erano spesso attribuiti a demoni e spiriti, oggi si tende a tirare in ballo civiltà aliene e tecnologie a noi ignote. Quindi questo ragionamento potrebbe avere senso. Un'altra ipotesi sostiene che coloro che guidano gli UFO non siano uguali agli alieni che sono atterrati sulla Terra. Questi ultimi sarebbero solo delle truppe sacrificabili a basso costo, forse addirittura basate sul DNA umano, ma non ci sono elementi a supporto di tale teoria. Altri invece, per colmare le lacune di Sainz, hanno semplicemente parlato di buchi di trama e di pigrizia nello sviscerare certi aspetti della pellicola. Nel mio piccolo ho sensazioni contrastanti nei confronti di questo film. Da un lato è affascinante e quasi visionario, dall'altro cade quasi nel ridicolo e nell'insensato. Trovo davvero difficile dare un giudizio chiaro su Sainz, che mi dà sempre questa sensazione di bizzarria, degli alieni invasori che muoiono per l'acqua, fenomeni strani e un clima di misticismo, davvero è particolare come pellicola. Non mi resta che passare la palla a voi e lasciare spazio ai vostri commenti, ditemi se avete visto questo film, cosa ne pensate, se secondo voi gli invasori sono alieni o demoni, insomma vi aspetto nella sezione commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e perché no attivate la campanella. Se volete supportare le mie creazioni potete farlo attraverso la funzione abbonamenti oppure Paypal e TP, link in descrizione. Sui social mi trovate come Lorenzo Divus, sia su Facebook che su Instagram. Vi ringrazio per l'ultima volta e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!